Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda nel centro abitato Sant'Agatese con a bordo un bilancino di precisione materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e 1600 euro in contanti trovati nella borsa della donna suddivisi in vari portadocumenti e ritenuti provento di attività illecita. I due, una coppia di coniugi di Militello Rosmarino, il 37enne AA e la moglie 29enne BS, sono stati arrestati ieri pomeriggio in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello, poiché ritenuti entrambi responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'arma hanno fermato i due coniugi durante i servizi di controllo del territorio. Dopo aver perquisito il veicolo, sospettando che i due giovani potessero detenere sostanza stupefacente, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso la residenza della coppia, rinvenendo, nascosti in un vecchio mobile del ripostiglio, circa 100 grammi di marijuana, occultata all'interno di due involucri di celofan, due bilancini di precisione e altro materiale destinato al confezionamento della droga. Pertanto i due giovani sono stati arrestati, mentre il denaro, i bilancini di precisione e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati unitamente alla sostanza stupefacente, che sarà inviata presso il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina per gli esami di laboratorio. Inoltre, poiché lo spostamento non era legato a motivi legittimi, i due coniugi sono stati anche sanzionati per la violazione delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati ristretti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Patti, in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale per l'udienza di convalida.